elaborare un piano nazionale e mondiale di riforestazione per il sequestro della co2 in eccesso è già perché molti scienziati si stanno occupando di questo problema e la prima domanda che si sono posti è stata questa di quanti alberi e quante piante abbiamo bisogno per assorbire la co2 prodotta oggi dall'uomo sono numerose e variegate le ricerche scientifiche che hanno cercato di rispondere a questa domanda il mondo botanico però è costituito da una varietà di specie talmente elevata che diventa difficile trovare valori comuni tra ambienti diversi infatti adesso è un altro esempio che si può fare è il confronto tra una pianta acquatica una foglia di quercia un filo d'erba e una spina di cactus se prendiamo in esame anche le stime di produzione di co2 da parte dell'uomo non solo per la nostra respirazione ma anche per tutte le attività umane che spesso comportano grandi quantitativi di co2 liberata nell'aria i dati ufficiali in nostro possesso ci obbligano ad una riflessione successiva molto globale sempre per le persone che vogliono vedere perché tante persone se ne fregano e fanno finta di non vedere di non accettare la situazione perché non gli interessa minimamente l'agenzia internazionale dell'energia ha stimato che ci vogliono 33 alberi adulto adulti per ciascun essere umano pensate a quante cose possiamo migliorare ogni giorno nella nostra vita per limitare il danno anche una goccia di ognuno di noi nell'oceano può fare tantissimo la differenza mi preme evidenziare come sia evidente che lo stile di vita di ciascuno di noi impatti in maniera estremamente elevata sulla produzione di co2 quindi dobbiamo comunque rifletterci un attimino non possiamo fregarcene perché noi dobbiamo lasciare agli altri il mondo come l'abbiamo trovato noi e se possiamo anche meglio se pensiamo che regioni come la toscana hanno già censito circa 500 mila ettari di terre abbandonate e incolte diviene molto semplice poter auspicare la gestione di un piano di restaurazione ecologica su bassa scala se l'ha fatto la toscana perché non possono farlo anche altre regioni non vedo il motivo quale sia purtroppo a oggi non tutte le regioni possè posseggono un database aggiornato per quantificare insomma quante terre incolte e abbandonate ci sono e questo è proprio il punto di partenza da cui nasce questo questo progetto altrimenti non è fattibile no e quindi perché lasciare dei terreni incolti e abbandonati che non sono di nessuno che non usa nessuno per migliorare la nostra situazione quindi noi vogliamo un intervento di restaurazione ecologica che permetta a noi e alle generazioni future di non dover più sovraccaricare il nostro ecosistema di fardelli ecologici che diventano un debito ambientale insostenibile per noi e per il nostro prossimo